Good morning Lano, good morning a tutti, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Crystal Radio, una nuova giornata inizia, il sole lentamente si alza su nostra città, anche se in questo momento ancora c'è buio fuori dalla nostra finestra, vedo, è alle 7 e 10 minuti di oggi, mercoledì 2 ottobre c'è ancora buio, poi vedremo verso fine mese quando cambieremo l'ora cosa succederà. Anche se questo è il mese in cui, avete visto, già il pomeriggio comincia a diventare buio prima e quindi poi è un attimo, è un attimo che alle 4 del pomeriggio c'è buio, che albeggerà tardissimo, questo è l'autunno che avanza e avanza anche la nostra trasmissione che ormai appunto giunge al secondo mese di programmazione già per questa stagione 2024-2025, mi raccomando sempre qui con noi la mattina come state facendo ormai appunto da un mese, grazie anzi per tutti coloro che, grazie a tutti coloro che ci ascoltano ogni mattina, noi siamo qua un po' così per darvi la sveglia appunto, per darvi un po' le notizie sulla nostra città e per interagire insieme a voi, 331-78-535-55, nostro numero di whatsapp, molto bello il fatto che quando entro in studio già ci sono i whatsapp, perché magari nel cristallistori della pausa del giornale radio ci scrivete, come ad esempio ha fatto Alberto, buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini, sempre solo? Eh sì, questa mattina ancora sì, Beatrice però si sta riprendendo, domani dovrebbe tornare tra di noi, oggi piove, dice Alberto, giornata impegnativa, sì è vero, è sempre così poi, quando piove qua a Milano, come si dice, si blocca tutta la città, ah signora sapesse cosa succede? Diana Ross, Diana Ross, Surrender, 7-14 minuti qui la mattina di Cristall Radio e grande musica, sembra veramente di stare nel pieno della Motown, invece siamo semplicemente sulla sponda del naviglio, pensa a te, ma in realtà secondo me togliamo via quel semplicemente, niente male a stare sulla sponda del naviglio. A proposito di sponda del naviglio, possiamo parlare delle sponde di San Siro, delle curve di San Siro, mai sui giornali locali praticamente c'è solo quello, andare a trovare altre notizie non è semplice, perché appunto ormai c'è veramente altro che terremoto, uno tsunami, appunto, è come se il navigli si fossero alzati, avessero spazzato via di tutto e di più, perché davvero, inchiesta sulle curve, leggo da Repubblica Milano, inchiesta sulle curve di Inter e Milan, IPM pronti a sentire Zanetti, Inzaghi, Skriniar e Calabria sui rapporti con gli ultra, dirigenti ed ex giocatori potrebbero essere ascoltati come persone informate sui fatti, per le presunte pressioni subuite dalle curve. Marotta ha detto che in realtà loro sono abbastanza tranquilli, anzi, dice, l'Inter ad esempio è parte lesa in tutta questa storia, ma anche il Milan vengono presentate come parte lesa le due società al momento e soprattutto i nomi che abbiamo letto non sono indagati, insomma, come al solito poi sui giornali è facile subito far confusione, no, sono persone informate dei fatti, come si dice in questi casi, che verranno sentite soprattutto perché, molto probabilmente, anche vittime loro stesse di pressioni, di richieste, di una gestione complicata, no, da parte delle società, da parte dei personaggi e dei protagonisti delle società, con invece i protagonisti e i personaggi delle varie curve. La procura di Milano, che indaga su affari, violenze e intimidazioni degli ultra, delle curve milanesi, potrebbe ascoltare, come persone informate sui fatti, appunto, così dice la Repubblica, l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, il vicepresidente Xavier Zanetti, l'ex difensore neroazzurro, ora al Paris Saint-Germain, Milan Schiniar e il capitano, appunto, del Milan, Davide Calabria. Nei prossimi giorni, i PM Storari e Ombra, nell'inchiesta di Polizia e Guardia di Finanza, inizieranno una serie di audizioni, di testimoni, convocando anche dirigenti, responsabili e calciatori dei due club, i cui nomi compaiono negli atti e sul capitolo delle presunte pressioni subite e dai legami con gli ultra richiesti di tessere. Sembrerebbe che ci sia anche stata una pressione verso l'allenatore dell'Inter, verso Inzaghi, nella richiesta proprio di anche mettere in campo le due punte. è uscita questa cosa qui, è uscita questa intercettazione, questa trascrizione. Adesso poi si fa anche abbastanza confusione a capire che cosa viene realmente detto in alcune telefonate, che sono uscite, dove si parla di massimi sistemi, dove si parla di pressioni per gestione di spazi fuori dallo stadio, per gestione di vendite e vengono anche... Perché il problema è anche questo, ma in certe telefonate a volte, tra personaggi di un certo ambiente, diciamo, a volte si millanta molto, sai, ho sentito quello lì, gli ho detto di fare così. Magari non se neanche mai sentito, magari non glielo neanche mai detto, quella persona ha fatto così per i fatti suoi, ma io mi prendo il merito di fronte ai miei compagni di Ventura di dire, è vero, ha fatto così perché glielo ho detto io. Insomma, c'è anche da dire tutto questo, cioè non stiamo parlando di una situazione normale dove noi, io e voi che ci ascoltate, ci troviamo al bar e ci raccontiamo cosa abbiamo fatto nel weekend. Qui parliamo di situazioni dove, insomma, sappiamo gli incroci con la malavita, gli incroci con certe frange violente, appunto, degli ultra, insomma, è un'inchiesta davvero complicata, molto, molto complicata, che sicuramente continuerà, continuerà ad andare avanti. Quindi, tenete presente che sta veramente prendendo chiunque? Comacosa, malavite... Ho sbagliato il singolare e il plurale del nale. Sono i Comacose con malavita, non i Comacosa con malavite. Quindi Comacose con malavita alle 7 e 21 minuti qui su Crystal Radio. Continuano ad arrivare i WhatsApp anche su questo tema, che comunque sta, appunto, insomma, smuovendo e non poco la città. C'è un WhatsApp, appunto, al 3317853555, che dice, sempre peggio il calcio, specchio di questa società odierna, e faccina un po' arrabbiata e un po' triste. Anche perché, immagino, come dicevo ieri, questa vicenda tradisce tanti, questa vicenda fa stare male tanti. Quelli che amano il calcio, quelli che il calcio la vivono come una passione, quelli che hanno ancora un attaccamento alla maglia. E non parliamo solo di dover andare, appunto, come dicevo, ai tempi di Rivera o ai tempi di Baresi, no? Anche adesso c'è gente, diciamo, i fan veri del calcio sono quelli che amano quello sport e che vivono le emozioni, la passione delle loro squadre. Ecco, tutto questo sistema, con anche le squadre coinvolte, anche siccome parte l'ESA, e non sto dando colpe o accusando le squadre, ma anche vedere le squadre comunque parte l'ESA e far parte di questo grosso disegno confusionale e brutto da vedere, perché è proprio brutto, diciamocelo, ecco, non fa bene al calcio e non fa bene a tutti quei fan e a tutte quelle persone che vogliono seguire e a che si appassionano, appunto, a un calcio che ancora in Italia e ancora a Milano ha ancora qualcosa di quel vecchio invece calcio romantico di una volta, no? Sapevo che le squadre internazionali ormai sono slegatissime al territorio, ormai hanno tifosi praticamente in tutta parte del mondo, ed è così anche per Milano e Inter, Milano e Inter hanno in Cina più tifosi di quanti hanno in Italia, molto probabilmente, sono più seguite forse in Cina di quanto sono seguite in Italia, però ancora c'è un minimo legame con il nostro territorio, anche dovuto, e qui inizia la rinca difensiva per lo stadio di San Siro, anche dovuta allo stadio di San Siro, che secondo me è sicuramente un simbolo granitico del legame che hanno queste squadre con il territorio. Per farvi capire come chiunque sta entrando in questa inchiesta, anche non da indagato, ma semplicemente appunto come persona informata dei fatti, come testimone, in varie quindi modalità si può venire toccati da questa inchiesta, leggo da Repubblica Milano, inchiesta sugli ultra perquisita alla casa del rapper Emis Schilla, trovati tirapugni, sfollagente e coltelli, la polizia anche dal coniato di Maldini però, Aldo Russo. Lo scorso 17 agosto a San Siro il rapper Emis Schilla era negli skybox insieme a Luca Lucci. Il rapper che non è indagato è stato anche riconosciuto tra i partecipanti all'aggressione di uno Stuart. Insomma c'è davvero tantissime persone che stanno ruotando intorno a questa inchiesta, appunto non è neanche Idagato, Emis Schilla in questo momento, quindi è veramente una persona informata dei fatti, è qualcuno che era lì al momento giusto per quanto riguarda gli inquirenti per fargli le domande corrette e giuste. Insomma è veramente qualcosa di molto molto grosso che sta muovendo davvero tantissimo sulla nostra città. in giornate dove comunque poi il calcio va avanti perché ieri sera appunto l'Inter si è portata a casa la vittoria per 4-0 con la Stella Rossa e invece il Milan, Leverkusen invece si è preso un gol e quindi ha perso invece ieri. Quindi accusa sembrerebbe che per quanto riguarda le squadre il Milan abbia accusato di più il colpo rispetto all'Inter, nonostante l'Inter appunto abbia anche delle aggravanti nell'accuse, nelle inchieste, cioè l'Inter non come società ma come diciamo curva appunto dell'Inter. Comunque questa è quanto e il tsunami continuerà sicuramente. La notte vola, Lorella Cuccarini, 7.33 minuti, tornati dopo la prima pausa pubblicitaria qui su Good Morning Milano, sempre qui in diretta su Crystal Radio, 96.2 FM, Dub Plus, applicazione per iOS Android, sito Internet, e poi se dovete per forza lasciare l'ascolto in diretta e volete riascoltare tutto più tardi, beh c'è il sito goodmorning.milano.it. Siamo in collegamento invece telefonico con un ospite che è stato qui qualche giorno fa con noi, che però dobbiamo dare, a cui dobbiamo dare spazio, perché insomma ci deve aggiornare su qualcosa. Sto parlando di Alessandro Scalas, buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti. Allora, non so se ve lo ricordate, Alessandro è quel cantante che con dei bigliettini colorati, sparsi in giro per la città, vi fa conoscere la sua musica e porta un po' il messaggio delle sue canzoni e dei suoi colori, colori che, giusto Alessandro, ricordami bene, tu vedi nel momento in cui vai a comporre quella canzone, giusto? Cioè, immagini diciamo. Sì, assolutamente sì. Mentre compongo il pianoforte o scrivo un testo, mi si accende in mente un colore, lo visualizzo proprio in mente. Lo visualizzi davanti a te. Ecco, questi bigliettini li puoi trovare un po' in giro per la città, ma ieri è successo qualcosa di particolare. Ce lo puoi raccontare? Sì, praticamente ci sono stati degli attriti, se così possiamo definirli, con degli addetti all'azienda dei trasporti di Milano. Io sono solito mettere questi bigliettini in metropolitana e sono stato fermato da, appunto, due addetti che mi hanno fermato dicendomi che non posso farlo, che non posso mettere questi bigliettini e nel momento in cui ho risposto dicendo ma sapete quello che sto facendo, loro non hanno voluto anche saperne, non sapevano nulla del mio agire e mi hanno detto di togliere i bigliettini altrimenti li avrebbero tolti loro. Due addetti che erano, cioè due addetti alla sicurezza, due controllori? No, semplicemente sono delle persone che guidano i mezzi, che guidano la metropolitana. Ok. Di cui uno in borghese, quindi me ne sono proprio accorto, sono rimasto anche un po' diciamo così scioccato perché ero proprio all'interno mentre distribuivo i bigliettini e mi ha fermato in borghese mentre il secondo era un autista. Ah ok, quindi diciamo neanche quelli da sicurezza o cosa. No, no, no. La cosa che io ho avuto tanti spazio per questa cosa perché lo sappiamo che effettivamente poi so che tu puoi sentire anche vedere il regolamento, giusto? Sì, sì, l'ho letto. Ok, cosa dice il regolamento? Allora effettivamente il regolamento dice che non si può fare pubblicità. Ok. Non si può fare nessun tipo di pubblicità. Allora, io la mia la considero parte della performance, parte quasi del mio agire artistico. Io non, ripeto, che non guadagno assolutamente nulla in termini di denaro e la mia iniziativa, naturalmente, oltre che farmi conoscere, è un'iniziativa che tende al sociale, tende a far sì che le persone socializzino in analogico e non in digitale. Infatti, molte volte quando le persone trovano il bigliettino, parlano tra di loro, si confrontano, socializzano. A te è quello che un po' ti ha sconvolto, diciamo, di questa storia? Non è tanto il fatto che ti dicono, guarda, non puoi mettere i bigliettini perché c'è un regolamento che tu dici, diciamo, ok, vabbè, il regolamento dice così. Ma è stata la modalità che ti ha un po' così turbato, giusto? Ma sì, più che altro perché non ascoltano ragioni o comunque non sanno neanche quello che io stia facendo. Ok. E poi soprattutto è pieno di tantissimi, io ho letto il regolamento, ho letto tutto il regolamento, sono vietate tantissime cose che in realtà in metro si fanno. Saltare il tornello, non lo so, rubare, borseggiare, cantare, esibirsi, suonare, sono tutte cose vietate dal regolamento ma che vengono giornalmente fatte. Nel senso che se bisogna andare a prendere qualcosa, a redarguire qualcuno, non penso che io debba essere la prima persona. Ma io quello che un po' mi ha così colpito di questa storia è che capisco il regolamento, il regolamento ha un senso ed è anche giusto che venga fatto rispettare, non so come dire, però credo che sia un po' strano e comunque anche diciamo segno dei tempi forse, non so come, mostriamo il peggio di noi stessi come al solito quando redarguiamo invece qualcosa di bello. Comunque c'è questa idea che la bellezza non debba essere sparsa in giro per la città, ecco non so come dire. E soprattutto le piccole azioni che a me invece piacciono sempre tanto, vanno bene gli sponsor milionari che invadono piazze o prendono in ostaggio piazza del Duomo ad esempio per fare i concerti, ma quando uno di noi, perché io adesso ti considero uno di noi, magari ecco un po' più dotato artisticamente di noi altri, quello mi spiace, cioè che la bellezza insomma venga sempre fermata o comunque bistrattata o comunque rallentata da regolamenti, regole, bandi, non bandi, insomma questo mi spiace un po'. Cosa succederà adesso? Continuerai a mettere i bigliettini? Li metti come scritto mi scusate mia TM ma lo metto lo stesso? Come funzionerà? Farai sui biglietti degli autobus adesso come farai? No dimmi. No, no, vabbè, detto questo comunque ci sono stati altri precedenti in cui mi hanno si redarguito ma altre volte invece hanno consentito a quello che stavo facendo anzi molti erano compiaciuti o alcuni erano anche indifferenti sempre parlando di addetti della metropolitana comunque dei mezzi di trasporto pubblico anche perché hanno capito che l'iniziativa era comunque comunitaria, bella e non nociva. Io quello che comunque dico anche a loro quando mi fermano è che io continuerò a farlo perché so dove voglio puntare so che quello che sto facendo è una cosa bella pulita e quindi continuerò a farlo perché effettivamente non imbratto i bigliettini sono facilmente rimovibili soprattutto vengono rimosti dalle persone. Ecco, bravo Alessandro, questo volevo dire a chi adesso direbbe insomma questi biglietti inquinano sporcano così no, perché poi chi li trova se li porta via con sé oppure li metti in altri posti li fa girare li porti in altre città abbiamo uno scoperto giusto Alessandro anche? Assolutamente sì assolutamente sì oppure nel caso in cui cadano a terra o li raccolgo io ritornando sul vagone oppure mi stanno mandando delle foto che delle persone che mi seguono sui social quando li trovano a terra li rimettono in altri posti quindi li riposizionano. Ecco, sappi che hai sulla coscienza oppure il merito non lo so decidi tu di avermi fatto fare ieri un intero viaggio sulla metropolitana di Milano tutta la rossa ho dovuto fare ieri senza il cellulare in mano ma guardando in alto cercando un tuo bigliettino quindi vedi te non sei il primo ed è una cosa molto bella questo va bene Alessandro grazie mille ricordaci il tuo Instagram so che sei poco digitale ma ci tengo ricordaci il tuo Instagram per seguirti semplicemente Alessandro Scalas nome e cognome perfetto grazie mille Alessandro buona giornata e buona produzione musicale allora grazie grazie buona giornata ciao un po' di musica adesso e poi torniamo ancora qui grazie mille Ale a posto buona giornata gentilissimo ciao 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 1974 La Belle Lady Marmalade quella che molti di voi magari conoscono per la versione del 2001 invece in cui c'era metà mondo che la cantava erano Cristina Aguilera Lil Kim Mia e Pink nel 2001 invece nel 74 appunto Lady Marmalade singolo del gruppo La Belle da cui poi uscì Patty La Belle che era diciamo la solista del gruppo un disco vabbè proprio di quel di quel mondo lì del mondo della Motown abbiamo aperto con Diana Ross adesso con La Belle insomma quella musica lì che ti fa ballare sì l'originale di quell'altro pezzo vabbè legato poi al grande film Mole Rouge che appunto è stato poi rifatto nel 2001 da quel poker di donne che era Cristina Aguilera Lil Kim Mia e Pink Mole Rouge un film che insomma se non l'avete visto io vi consiglio Buzz Lurman regia 2001 dateci un'occhiata le notizie continuano ad arrivare ma dobbiamo fare un passo indietro anzi un salto indietro anzi un volo indietro mi verrebbe da dire perché dobbiamo andare all'aeroporto di Bergamo perché ieri è successo davvero di tutto real serio scoppiano le ruote di un aereo leggo da Repubblica Milano scoppiano le ruote di un aereo appena atterrato partenze e arrivi bloccati fino alle 19 e 30 danneggiati 450 metri della pista il volo Ryanair era appena arrivato da Barcellona fortunatamente nessuno è rimasto ferito l'aria apertura e sono anche andato a vedere sul sito post proprio questa mattina dello scalo è stato riaperto poi intorno alle 19 e 30 anche se comunque lo scalo sul sito proprio ufficiale di milanbergamohairport.it mi piace questo milanbergamo è una partita di calcio e comunque dice di fare attenzione a tutte le comunicazioni perché ci potrebbero essere ancora dei piccoli spostamenti di orario dei piccoli disagi 450 metri di pista danneggiata comunque poi bisogna capire quando lo si metterà a posto come lo si metterà a posto in che maniera nel senso che comunque appunto adesso ci saranno a fare dei lavori quindi bisognerà chiudere bisognerà sospendere l'attività quando come e perché sicuramente ieri è stato un disagio in tutta il nord Italia voli alcuni cancellati altri dirottati su linate con persone che però magari non so il problema qual è che tu parti da Bergamo e lasci la macchina a Bergamo poi ti mandano la linate comodo magari abiti a Milano e sei comodo ma la macchina tua è a Bergamo quindi poi da casa tua devi andartene fino a Bergamo a prendere la macchina per poi ritornare qua insomma non è stata una giornata semplice per i trasporti soprattutto appunto per i trasporti da quanto riguarda appunto l'aeroporto di Bergamo ma alle 19.30 di ieri era già stato riaperto lo scalo l'incidente è venuto ieri mattina quindi insomma tutta una giornata praticamente persa è andata chiusa con appunto conseguenti molti molti disagi conseguenti disagi appunto su tutta la movimentazione aerea del nord Italia andiamo con un po' di musica adesso invece musica loro sono i Black Kiss con Gold on the Ceiling i Black Kiss con Gold on the Ceiling 7.50 poco prima della pausa che ci porterà al giornale radio e al Crystal History leggiamo un'altra notizia che arriva invece dal Corriere della Sera Milano perché le proteste del liceo Agnesi di Via Bazzi di degrado immondizie scarsa sicurezza dell'Elx Galvanica il comune dice l'edificio l'Elx Galvanica appunto sarà demolito l'ultimo episodio è avvenuto una decina di giorni fa leggo da Corriere della Sera un gruppo di studentesse appena uscite da scuola in attesa della 90 avvicinato da alcuni sbandati che chiedevano con insistenza sigarette o monete le ragazze intimorite si sono rifugiate all'interno della scuola la vice prestiti Tiziana Tramuta è uscita e li ha allontanati gli sbandati ma questo è solo l'ultimo di una serie di problemi di episodi la succursale dell'Elx Galvanica di Via Bazzi in zona Bocconi sede nel corso di scienze umane e con un'utenza questo non bisogna sottovalutare con un'utenza quasi prettamente femminile confina con qualche resta dell'ex Galvanica Lorenzi industria che si occupava appunto di finitura dei metalli è una ferita aperta nel quartiere per anni è stato il sito più inquinato di tutta la provincia di Milano per i livelli altissimi del cromo esivalente duemila volte superiore al consentito pensate nel 2007 il tolare d'attività ormai dismessa da anni poi condannato penalmente per reato ambientale riversò nel terreno sostanze inquinanti per la falda acquifera anche lo stabile realizzato con tetto in amianto fu abbandonato a se stesso nel 2019 il comune è intervenuto avviando la bonifica dell'amianto ma da allora poco è cambiato quindi la grande protesta abbiamo già parlato di questa cosa dell'Agnesi con le ragazze che vengono scortate a volte dai professori rivolte dalla vicepreste così verso la circovalla riprende la 90-91 e di quello che quel luogo è perché è ricettacolo del disagio più possibile immaginabile che abbiamo oltre ad essere anche una bomba ecologica ambientale inquinante in una zona molto importante di Milano tra parenti appunto a fianco di una scuola ed è subito Live Aid è subito We Are The World è subito 1984 con I Just Call Loved You TV Wonder beh qualcosa di pazzesco questo è Crystal History solo qui potete rivivere la musica quella vera quella che vi ha fatto emozionare in tutti questi anni dove? a Good Morning Milano ma soprattutto dove? a Crystal Radio sapete Crystal Radio è definita l'ho trovato su vari siti che parlano di radio così è definita l'ultima vera radio libera di Milano quindi insomma abbiamo ci freggiamo di questo di questo titolo non ce lo siamo dati noi è scritto su dei siti che trovate cercate su Google Crystal Radio Radio Libera vedete che verranno fuori più di un articolo dove veniamo definiti l'ultima radio libera di Milano questo veniamo proprio mi sono salito sul carro dei vincitori così anche se sono appena arrivato ma mi piace molto l'idea e invece anzi complimenti a chi ricordo sempre 40 anni fa ha avuto l'idea di tirare sull'antenna attaccarci un giradischi e di trasmettere dire buongiorno Milano questo è Crystal Radio è così 40 anni fa dei giovani ventenni hanno avuto questo coraggio adesso sono ancora qui con noi e lottano insieme a noi ogni giorno e sono la colonna portante di questa radio che speriamo io spero ma gli auguro ma ne sono certo vi da tante emozioni durante il giorno anche perché appunto come vi dicevo anche ieri è iniziato praticamente quasi al completo il palinsesto di Crystal Radio quindi dopo di noi c'è senti questa poi oggi è mercoledì c'è K-Day ad esempio dalle 11 dalle 10 scusate dalle 10 a mezzogiorno poi nel pomeriggio c'è Mighty Remas poi c'è anche ci sono tantissime altre trasmissioni che vi riempiono la giornata come cose a caso ma poi c'è il tacchino curioso ma poi c'è non solo Metal e poi che altro K-Yard ad esempio sicuramente mi sono dimenticato alcune chiedo perdono a quelli che mi sono dimenticato da domani mi metto qua davanti tutto il palinsesto così li dico tutti quanti questo è per dirvi cosa che la mattina ci siamo noi dalle 7 alle 9 che ci siamo noi sul sito internet goodmorning.milano.it potete riascoltarci potete fare tutto quello che volete con i nostri social ma che durante il giorno quando volete come volete è un attimo prendete andate sulla app o sul sito oppure accendete l'autoradio sul DAB o sull'FM ci ascoltate senza problemi quando volete quindi insomma meglio di così non saprei davvero come fare per allietare le vostre giornate cercheremo di farlo sempre di più e sempre meglio per aiutarvi ad affrontare questa città ad affrontare Milano che insomma è sempre un gran bel problema una gran bella sfida sono le 8.13 adesso andiamo ancora con un po' di musica e poi torniamo subito qui in diretta perché sono arrivati anche è arrivata anche la nostra ospite di oggi e quindi chiacchieriamo un po' adesso vedete chiacchieriamo di bellezza di Milano di fotografia dei territori delle periferie di come Milano è fatta dai milanesi da tutti quelli che passano di qua e come si diventa milanesi in un attimo basta innamorarsi di questa città rosaline con snap alle 8 e 17 minuti qui in diretta su cristal radio fm96.2 dub plus l'applicazione perioressa android ve l'ho già detto il sito internet insomma non scappate dall'ascoltarci se volete noi siamo qua e poi c'è anche il sito goodmorning.minano.it per riascoltare tutti gli interventi come ad esempio se magari dovete per forza adesso entrare in ufficio non potete andare davanti a ascoltarci quello della nostra ospite di oggi Elena Galimberti buongiorno buongiorno Fabio buongiorno Milano buongiorno vittima questa mattina anche essa del dover correre ogni mattina un milanese si sveglia e sa che dovrà correre per prendere l'autobus il tram la metropolitana il terreno tutto tutto è preso questa mattina praticamente no? e la pioggia tutto questo giustamente oggi con l'aggravante anche della pioggia beh insomma ci mancava ci mancava solo quella comunque Elena ti ho voluto qui con noi perché vabbè tu sei una fotografa sei una conoscitrice di questa città tu sei un architetto paesaggistico esatto si lavorato in architettura ma ha lavorato come paesaggista in Portogallo ecco e mi piace questa cosa che passare dai paesaggi del Portogallo ai Grattacei di Milano per te in realtà è stato quasi naturale però perché poi hai visto la bellezza i paesaggi riconosci anche quello che magari per alcuni di noi è solo cemento e grigiume e invece no tu hai riconosciuto i paesaggi la bellezza e tutto la bellezza sì infatti è il termine giusto perché da progettista di spazi pubblici ho iniziato invece a guardare gli spazi pubblici attraverso quello che era la progettazione umana cioè quindi quello che i cittadini facevano negli spazi che erano dei loro quartieri e soprattutto nei luoghi dove non lo sguardo non si posa perché in effetti se ci pensi ci sono dei luoghi che sono detti brutti e quindi non li guardiamo più invece proprio lì cercavo quella scintilla quella parte dell'anima dei cittadini che lasciavano in quei luoghi quella luce particolare che nasceva dal movimento umano che viveva lì e quindi ho cominciato in effetti le prime fotografie che mi hanno aperto tra virgolette sguardo e strada sono state quelle delle periferie come Grattosoglio per esempio e mi dicevano guardando le foto che pubblicavo e condividevo ma dove hai visto queste cose ma proprio lì sotto i vostri occhi solo che voi non le guardate più usare gli occhi in maniera diversa forse una prospettiva diversa non è solo alzare lo sguardo è proprio fermarsi guardare un attimo cogliere oltre che fermarsi perché io spesso appunto corro è proprio allenare lo sguardo a guardare attraverso quello che tu sei non quello che ti hanno detto che di solito c'è e quindi guardare solo in vacanza o guardare nei monumenti nei posti classici belli ma dove stai nel quotidiano quindi vedere cosa c'è intorno a te è quello che ti colpisce ti relaziona ti viene voglia di raccontare ti collega io poi la speranza è sempre che poi si prendano cura di quegli spazi che attraverso lo sguardo infatti magari scoprendo che insomma quel vialone non è solo una via non è solo cemento non è solo macchine che corrono uno poi magari si prende cura si prende cura di quella piccola aiuola si prende cura di quel marciapiede insomma quello è lo scopo è lo scopo è quello lì tra la rente si vorrei dire noi ci conosciamo praticamente quasi da dieci anni credo da quando sono tornati quindi sì per di quanti sono più o meno era l'espo 2015 quindi siamo quasi a dieci anni prossimo anno facciamo buon compleanno per la nostra conoscenza decennale e questo per dirvi che cosa che non è una roba dell'ultimo minuto perché c'è Instagram del faccio l'influencer sulle foto di Milano cioè arriva da molto molto più lontano sì ed è diciamo che è stato anche il cambiamento della mia vita perché io appunto ero un architetto pesaggista ero tornata per fare espo perché volevo partecipare che tu lo sai me l'abbiamo raccontato in espo e da lì sono diventata la vera espo ottimista come si diceva all'epoca esatto perché nessuno ci credeva io essendo che c'ero stata a espo Lisbona sapevo cosa succedeva nel cambio della città però appunto la fotografia è arrivata lì e quindi guardando gli spazi guardando come era cambiata Milano e guardando quello che avevano fatto i cittadini per cambiare Milano ho cercato di raccontarla e nello stesso tempo ha cambiato me io non sono più quella di dieci anni fa che voleva fare la pesaggista voleva ritornare magari a fare l'architetto adesso io non tornerei più a fare l'architetto ed è un modo di progettare diverso attraverso l'umano cioè attraverso le persone che sono cittadini la città se ne accorta tanto che ultimamente anche sui giornali ti abbiamo trovato e proprio da lì poi ripartiremo fra pochissimo subito dopo la prossima canzone che sono i Purple Disco Machine con All My Life qui in diretta con Elena Galimberti Good Morning Milano Purple Disco Machine All My Life alle 8 e 25 minuti Crystal Radio Good Morning Milano qui con Elena Galimberti l'ultimo giornale che ha parlato di te è stato il giornale proprio un nome che io adoro sempre chiamare un giornale il giornale secondo me è la cosa più geniale che potevano fare mercoledì 25 settembre quindi pochi giorni fa in un bel paginone dove si intitola l'arte di fissare in uno scatto la metamorfosi della città due maestri della fotografia come Elena Galimberti e Giovanni Agnian indagano i tanti volti di Milano e le evoluzioni che vive nel tempo due maestri della fotografia dieci anni fa non ci avresti neanche mai pensato il film no zero proprio tu lo sai mi hai visto nel tempo com'è stato leggere così e cos'è questa metamorfosi della città che si è riuscita a imprimere in uno scatto in tanti scatti beh leggere così è sempre più che altro l'orgoglio perché vuol dire che il messaggio che volevo passare si sta lo stanno ricevendo e si sta capendo che era quello che mi primeva di più non tanto perché sento io non è da dare il mio scontato esatto perché io ho sempre avuto una semplicità una sincerità di base che non si nascondeva dietro a maschere o qualcosa inventato cioè cercavo sempre di raccontare quello che sentiva e quello che vedevo della città appunto che è questo suo lato umano questa sua molteplicità di anime di ogni quartiere che è una cosa la parte dei cittadini che si impegnano che volevo raccontare perché la bellezza veramente nasce secondo me da lì cioè dall'operosità poi si dice sempre Milano col cuore in mano giusto però si vede fino a un certo punto se ne parla ma non si vede per quello che lo sguardo io lo voglio puntare soprattutto lì e essendo io architetto lo vedo proprio nello spazio fisico ma esce la loro appunto il loro impegno cioè quindi non è solo una progettazione di un architetto ma è quello che risulta dal fatto che loro sono lì a vivere quindi diciamo l'umano che vive con lo spazio l'umano che vive quel momento l'umano che vive quell'architettura anche volendo che la rende quello che ti interessa è bella viva funzionale ma viva funzionale non sempre cioè viva perché vedi magari lo spazio pubblico non è funzionale ma loro cercano un modo per renderlo più funzionale quando non può arrivare e dovrebbe arrivare lo Stato o l'istituzione cercano comunque di trovare una soluzione e poi appunto nel collegamento corretto sarebbe mettere insieme i livelli chiaro bene allora se volete sapere cosa magari in questi anni ha scovato in giro per la città e rimanete con noi perché adesso un po' di pubblicità ma poi torniamo e cominciamo anche a farci un giretto per Milano va bene ci porti in giro tu ci porti manina in giro per la città prima però andiamo con Tedua con beh oggi non c'è perché è ammalata ma insomma mettiamo una canzone per augurargli pronta guarigione a chi è la nostra producer in redazione Beatrice che appunto oggi non c'è ma Tedua ci ha pensato con una canzone insieme ad Annalisa e quindi Tedua con Beatrice alle 7 e 27 minuti alle 8 scusate 27 minuti qui su Cristal Radio festa totale Paola e Chiara 8 e 35 minuti ritornati qui dopo la pausa della pubblicità ancora con Good Morning Milano qui con Elena Galimberti fotografa conoscitrice della città scovatrice di umanità in giro per la nostra città beh ne hai trovata tanta e ne hai raccontata tanta in questi anni no? quali sono quelle zone che ti hanno più colpito ancora? hai le zone del tuo cuore sono sicuro? sì in effetti sì però appunto ogni volta ne andavo a scoprire una nuova e ogni volta Milano ti può sorprendere perché se anche passa un anno un anno e mezzo che magari non torni in un partiere tutto ci sono associazioni nuove nuovi progetti nuove storie perché Milano è molto in movimento corre come abbiamo detto all'inizio diciamo che il primo il primo partiere a cui proprio sono legata perché è stato anche proprio l'inizio della scoperta della città delle persone è stato Grattosoglio che è quello da cui ho fatto scattato tantissime fotografie anche la più bella secondo me una che adesso utilizzo spesso in mostro e anche in un libro è quella della bambina con il palloncino con dietro la torre di Grattosoglio perché l'idea della speranza è anche della gioia del futuro perché appunto dipende anche da noi crearci una possibilità di futuro e quindi sì Grattosoglio per la anche la Susi una signora anziana che va a un laboratorio per i bambini poi c'è Mario Dora Dio e con lui poi siamo andati alla scoperta della città in tutti i quartieri perché appunto l'idea è anche mettere in relazione le persone che scopro e fotografo perché non è solo fare una foto e condividere una foto ma è far conoscere anche le persone che fotografo per cui io so che ne so ad Ergano c'è un'associazione che fa una cosa simile a Grattosoglio e li metto in contatto quindi anche creare rete cioè il mio non è solo un lavoro di fotografia di scatto e basta ma è anche un lavoro di sociale di progettazione sociale chiamiamola così e quindi mettere l'azione creare contesti creare reti Grattosoglio poi appunto c'è Corvetto che anche lì mi prendono sempre in giro perché dico ma come tu io andrei a vivere in Corvetto in realtà e perché ti prendono in giro? perché Corvetto è legato quanto Grattosoglio Partoggiaro o altri quartieri ha un passato di immagine però hai detto bene ha un passato oppure c'è ancora comunque questo stigma rimane allora adesso un po' meno però rimane ancora su Milano se tu dici ad alcuni che stai andando Corvetto Grattosoglio però non hai paura lì in realtà credo che sia anche dato dal fatto che le persone si muovono poco da un quartiere all'altro cioè stanno famoso i milanesi non conoscono Milano è sempre attuale sì ma credo che adesso che mi muovo molto anche su tutta Italia credo che sia proprio una cosa tipica delle città ognuno crea nel proprio quartiere il proprio borgo chiamiamolo così quindi la famosa città policentrica è arrivata prima lì che in altre situazioni diciamo quindi Corvetto mi piace molto sia per il tipo di territorio perché poi ha tantissimi parchi piccola quindi ha un centro e poi sei vicinissimo alla metro e poi hai due parchi cioè il parco della Vettabia e quello nuovo che hanno del boschetto di Logoreda che è stato recuperato da Italia Nostra e poi ci sono tante associazioni appunto lì hanno creato anche il laboratorio di quartiere che hanno fatto in varie parti di Milano lì sta funzionando bene perché le associazioni hanno creato proprio un sistema in cui si beh avete capito che se ti va male la carriera da fotografa cosa che non penso visto il grande successo che hai puoi anche andare a vendere case mi sembra cioè sei perfetta per poter sponsorizzare i vari quartieri dire guarda copri la casa in Dergano è comodissimo a pochi minuti dalla metropolitana poi arrivi in centro con il tram cioè poi veramente ormai mal che vada Elena mal che vada insomma se un giorno ti stanchi di fotografare puoi passare da quella parte lì e invece sei un'ottima venditrice dell'umanità di Milano quello sì cioè sei la sponsor numero uno degli umani che a Milano fanno cose interessanti ne hai scovate veramente ovunque prima ci parlavi di questa signora Rosi Susi scusa ma è una delle tante che hai incontrato e scovato credo di non di non conoscere nemmeno la metà di tutte le persone che operano e fanno attività sul territorio di Milano è incredibile infatti è appassionante ti regala energia io dico sempre che è un modo per iniziare la giornata e comunque la vita in un modo c'è un'energia tu con queste persone ci parli molto perché sì noi vediamo lo scatto lo scatto i due scatti tre scatti quando magari ci va bene ma in realtà tu ci parli tantissimo prima no e gli avrai chiesto perché lo fanno sì sì ma anche io perché tutti noi ci chiediamo perché lo facciamo prima di tutto perché è giusto perché è il tuo dovere non si usa più questa parola però è il nostro dovere dei cittadini cioè tu vivi lì è una passione proprio e ti restituisce una grandissima energia cioè tu anche lì utilizzare il termine felice però ti dà veramente una grande gioia una grande energia aiutare e vivere in modo impegnato il tuo territorio perché mette in circolo davvero la bellezza di cui parlavamo prima mette in contatto mette relazione infatti una delle cose che ho iniziato forse non te ne avevo parlato l'ultima volta che siamo visti puoi farlo adesso educazione allo sguardo ah bene cos'è interessante faccio con i ragazzi anche con gli adulti l'idea di la fotografia puoi insegnarla appunto come tecnica però anche soprattutto come imparare a guardare cioè proprio quindi io li porto nei territori soprattutto nelle periferie nei quartieri a cercare quello che è la loro bellezza in quel luogo aprire gli occhi appunto cambiare il punto di vista cambiare la prospettiva e imparare a guardare allenare lo sguardo che poi è il paradosso di questi tempi perché insomma siamo in un tempo dove dobbiamo guardare tutto avere immagini di tutto abbiamo una fotocamera in mano H24 ma non siamo allenati non siamo anzi come hai detto educati allo sguardo infatti è proprio lì il punto e se impari a guardare anche attraverso gli occhi di chi è appassionato e si impegna a fare qualcosa sul territorio capisci che puoi farlo anche tu diventi protagonista pure tu il cellulare infatti io faccio usare soprattutto il cellulare dico ce l'hai in mano usalo per te usalo per imparare e quindi diventa uno strumento per indagare il territorio per progettarlo e prendersene cura la speranza sempre prendersene cura quello è fondamentale sono tanti a Milano che lo fanno appunto tu Elena ne hai incontrati davvero davvero tantissimi un po' di musica adesso Edwin Collins con A Girl Like You e poi torniamo ancora qui sempre qua Good Morning Milano con Elena Galimberti A Girl Like You Edwin Collins non so cosa dica il testo quindi non so se dire che è dedicata a te o no quindi non voglio sapere A Girl Like You non so se dice cose buone non ho letto il testo quindi Elena non ti posso dedicare questa canzone Elena Galimberti qui con noi perché non vorrei fare una gaffa chissà cosa dice quella incapace a fare le foto ma dice così che ne sai la canzone però avendo le case bene ad ergo chi ne sai insomma non vorrei che fosse quello parlavamo di umanità parlavamo di mi piace che tu usi questa parola operosa tu dici la Milano operosa che spesso poi noi colleghiamo al milanese imbruttito c'è l'operosità la fattura il cord e invece tu dici no non è quella roba lì è tutt'altro è anche quello ma tu cerchi e trovi altro esatto infatti cerco l'altro sappiamo tutti che Milano corre anch'io corso stamattina per essere qui e dobbiamo tutti fatturare ringraziamo sempre Trenord perché così ci tieni in allenamento dobbiamo tutti fatturare però l'idea è che appunto ci sia anche tutta l'altra parte di Milano che poi non è detto che non fatturi però si impegna a cambiare il proprio quartiere dove abita e non solo a cambiare il quartiere ma a stare in relazione con i cittadini che abitano lì cioè quindi creare un sistema per cui si possa vivere meglio in comunità creare una comunità ecco sul giornale credo su Repubblica mi hanno tagliato no quello è sempre il giornale è sempre il giornale però un altro articolo era sempre in preparazione del convegno infatti ti definisce così questo articolo la fotografa dei quartieri che sgrida la politica urca cosa gli hai fatto? gli hai tirato la giacchetta al Beppe? no tu e il Beppe siete amici dai lo sappiamo dai tempi di Expo esatto sì siamo amici allora chi è che chi è che mi hai sgridato qua? no era una cosa generica perché l'idea è che se i due livelli di politica istituzioni e associazione cittadini si incontrassero di più sarebbe molto più semplice il progetto del territorio ecco perché spesso non c'è il contatto la comunicazione magari il comune sta facendo dei progetti ma non vengono conosciuti dai cittadini e i cittadini stessi non riescono a parlare col comune e quindi si perde quel pezzo di realtà che farebbe avvenire le cose anche più velocemente più efficacemente solo questo perché per esempio loro appunto magari stanno con l'impegno a trasformare la piazza o uno spazio che non è degradato eccetera se aiutati se supportati di più probabilmente sarebbe anche più veloce la rigenerazione del territorio con questo non dico che non si è fatto nulla anzi io in questi dieci anni ho fotografato l'evoluzione della città e il cambio della trasformazione che è appunto tutte le piazze le piazze tattiche tu una cosa interessante è che tu sei arrivata a Milano che stava già iniziando la trasformazione diciamo che non l'hai vissuta proprio quella appena prima perché è stata via quanti anni è stata via? dieci anni sono tornata nel 2014 quindi tu sei andata via dieci anni ancora prima di una Milano che era completamente diversa tornata poi nel 2015 con una Milano che si era già un po' trasformata e che poi ha vissuto un po' di rendita negli anni a seguire ma che in realtà poi ci siamo accorti dieci anni dopo essere cambiata ancora tantissimo però noi pensavamo che dopo Expo fosse tutto un po' già così basta adesso vivremo di rendita per Expo chissà quanti anni ci ritroviamo dieci anni dopo con una città completamente diversa da quella del 2015 beh le città cambiano sempre è proprio il bello della città perché è in mutamento perenne soprattutto perché i cittadini sono super attivi il fatto è che un po' il covid e su questo non c'è dubbio che ho visto una grandissima differenza in termini di associazione cittadini si è perso quel collante quel legame che funzionava anche autonomamente quindi si è sentiti persi cioè in generale un po' tutti si sono sentiti io stessa isolati persi per cui tutto quel pezzo di relazione di contatto fisico e visuale si è un po' allentato che è quello che crea secondo me tantissimi problemi bisogna ritornare proprio a vivere gli spazi perché tutte le volte che vede fotografo eventi in cui la gente partecipa fisicamente e si vede negli spazi c'è uno scambio di energia quando ovviamente usino online va benissimo funzionano le cose però solo a livello funzionale ma non c'è uno scambio di vivacità che c'era quindi si è cambiato quello il fatto che non ci relazionavamo più tantissimo negli spazi e poi appunto la rendita di Expo no ovviamente una città deve cambiare adesso c'è tutto il tema della casa c'è il tema dei trasporti c'è il tema dell'ambiente ogni volta dobbiamo trovare soluzioni nuove però Milano è questo che mi piace è molto innovativa è sempre aperta al cambiamento quindi le sfide che per molti sono magari il problema della città invece tu dici no le sfide della città sono la cosa bella delle città è da lì che nasce il cambiamento nasce poi il conoscerci nasce la socialità io credo davvero in questo perché appunto bisogna dare anche la possibilità appunto trovare degli spazi pubblici io credo molto nello spazio pubblico perché è lì che poi nascono i contatti gli scambi e i progetti delle idee però sì credo che le sfide le criticità sono quelle che fanno diventare una città ancora più bella se le sai cogliere certo allora però siamo quasi in chiusura se volessimo seguire il tuo operato il tuo lavoro i libri mostri facendo di tutto c'è qualcosa in giro dobbiamo andare online come funziona? allora adesso c'è una mostra vicino a Torino ok il festival colline foto festival poi vai sul sito e sui social ovviamente in effetti pubblico molto più su facebook anche se si dice che è da boomer però io quando racconto tutta una parte sociale metto più foto lì e anche qui è interessante perché appunto vuol dire che non è solo la foto l'oggetto è il racconto perché Instagram per esempio metto solo una o due foto pubblico poco però se devo raccontare tutta un'associazione come Leacli con cui sto lavorando tutti i lavori che stiamo facendo con loro utilizzo più facebook probabilmente sul sito creerò anche una sezione apposta nella parte umana per ora non ho avuto abbastanza tempo e c'è una mostra appunto un libro sta per uscire con la Feltrinelli partecipazione civica dove c'è tutto un inserto fotografico mio dedicato appunto all'umanità a questa Italia civile mettiamola così e poi sì altre mostri stiamo preparando città sospese la voglio portare anche in altre città Roma-Napoli e su Milano ne preparerò un'altra bene allora rimanete connessi come in questi casi stay tuned perché la Galimberti ci darà sicuramente ancora tanto da vedere e da scoprire cerchiamo di vederci più spesso noi te lo dico qua in diretta insomma ci sono tante cose da raccontare non facciamo passare così tanto tempo anche se poi non lo sapete Elena ha una sua foto qui nel cartellone che abbiamo in redazione c'è ci sei tu e dopo te lo faccio vedere non te ne sei accorta dopo ti faccio vedere sì 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 dopo il famoso muro di Expo su cui c'eri perché mi ricordo che c'è la tua foto la volontaria Expo beh c'è anche qua appunto in redazione con noi a Good Money Milano grazie Elena grazie a te Fabio buona giornata e buon sguardo allora va bene buona luce buona luce a tutti qui vogliamo veramente illuminiamo la pioggia ce n'hai bisogno ce n'hai bisogno è vero ancora una canzone poi torniamo per i saluti finali grazie mille Elena Galimberti seguitela su internet seguitela sui social sullo sito basta scrivere Elena Galimberti viene fuori tutto quello che vi serve mi raccomando seguitela questo sì che è uno sguardo interessante sulla nostra città è uno sguardo sulla città ma soprattutto su noi milanesi e sì anche oggi siamo arrivati alla fine tanti gli ospiti abbiamo avuto oggi in trasmissione tantissime notizie abbiamo letto ma soprattutto grazie a tutti voi per ascoltarci ogni mattina e anzi grazie anche a chi ci stava ascoltando in questo momento magari nel podcast e quindi è andato sul nostro sito goodmorning.milano.it oppure su apple podcast oppure su spotify e quindi grazie anche a chi ci riascolta durante la giornata dopo di noi Ambrogio Curti con senti questa alle 9.05 dopo il giornale radio la grande musica raccontata da Ambrogio Curti poi non perdete l'appuntamento alle 10 dalle 10 a mezzogiorno con Kay Day il giornaliero la trasmissione giornaliera di Milano la giornaliera di Crystal Radio ve l'ho detto ormai il palinsesto è completo tutti le ore tutti i giorni c'è qualcosa di bello e interessante da ascoltare qui su Crystal Radio le voci che avete sentito oggi qui sono state quelle di Alessandro Scalast Elena Galimberti e Fabio Ranfi qui al microfono per voi in regia in regia Ginevra come sempre bravissima e competentissima e Beatrice che tornerà domani grazie mille a tutti buona giornata ciao ciao